Anas ha apparecchiato il cantiere per la realizzazione della maxi rotatoria sul valico delle Siligate. Sono lavori che danno il via ad un'operazione di sicurezza stradale attesa da quasi 20 anni, soprattutto dal quartiere San Bartolo che all'epoca iniziò con una raccolta firme questa battaglia di regolamentazione del traffico sull'arteria di collegamento fra Pesaro, Gabicce Mare e Gradara, teatro di troppi gravi incidenti. Un percorso lungo che ora si concretizza con un maxi investimento di 900.000 euro di Anas ai quali si aggiungono 40.000 di espropri del comune che meno di un mese fa ha dato l'ok definitivo alla delibera. Fulcro dei lavori sarà il rondò che armonizzerà la strada al vivo per salire sul San Bartolo verso Fiorenzuola di Focara. In questi primi giorni si lavora sulla parte marginale della careggiata senza ostacolare il traffico veicolare estivo. L'obiettivo è quello di tentare di completare l'opera a gennaio 2023. Un'opera che non vuole essere un punto d'arrivo ma piuttosto essere inglobata in un ripensamento della strada che comprenderà anche il futuro passaggio della ciclovia adriatica. e poi